benvenuti in questo nuovo video oggi vi farò vedere come usare utorrent sul proprio dispositivo android in questo caso la versione è la pro la trovate nel link in descrizione basta andare qua sotto in download apk e ci aprirà user cloud non voglio in nessun modo aiutare la pirateria è solo scopo illustrativo questa guida eccoci qui andiamo su download apk qui scarichiamo facendo download il tastino blu ci aprirà una pubblicità facciamola caricare in questo caso abbiamo vinto un iphone torniamo indietro e diventerà verde il bottoncino lo rischiacciamo ci aprirà un'altra pubblicità torniamo su quella schermata e rischiacciamo il bottoncino verde ed ecco qua che ci aprirà il nostro apk lo andiamo a salvare poi con un archivio o comunque qualsiasi file manager andiamo a installare l'applicazione ok io ce l'ho già installata comunque se l'avete bloccate quelle di origine sconosciuta andate ad abilitarle potete abilitare tutto solo questa installazione una volta abilitate le installate e andiamo ad aprire il nostro utorrent ok utorrent come vedete dentro ha una lente possiamo cercare qualsiasi cosa ad esempio noi cerchiamo laura pausini e lui ci aprirà tutta una lista di risultati su google con la raposini torrent questo è tutto se vi è piaciuto il video lasciate like